Con l'apertura solenne del santuario, domani pomeriggio prendono il via i festeggiamenti in onore della Madonna delle Galline. Appuntamento di fede e pietà popolare molto sentito a Pagani, che attira tantissime persone da tutta la regione e non solo. Alle ore 18 l'inizio, che sarà seguito in diretta televisiva da Telenuova già dalle 17.30, e alle ore 22 un concerto di musica sacra dedicato alla Vergine. Sabato le messe in chiesa e in serata, la novità di quest'anno, alle ore 20, la recita del Santo Rosario nei 27 Toselli allestiti su tutto il territorio. La vigilia della processione sabato sera, alle ore 20, in contemporanea tutti quanti, tutti i devoti dei Toselli apriranno per il Rosario comunitario. Quindi gruppi parrucchiali, gruppi della Cinco Fraternita, si regheranno nei 27 Toselli per recitare il Santo Rosario. Domenica la processione girerà tutta la città. Partirà alle ore 9 dal santuario e culminerà in serata in Piazza Corpo di Cristo con la messa presieduta dal Vescovo Diocesano. Quando si ritirà la processione solenne da San D'Alfonso al santuario farà sosta in Piazza Corpo di Cristo, laddove celebraremo questa Santa Messa presa dal nostro Vescovo, Monsignor Giuseppe Giudice e dopodiché riaccompagneremo la Madonna nel santuario. Tra gli appuntamenti culturali da segnalare la mostra fotografica di Gaetano Falcone e l'esposizione del presepe monumentale dell'artista Alfonso Pepe. Un presepe che presenterà in anteprima qui nell'Annunziatella, prima di portarlo a Roma alla presidenza del Consiglio dei Ministri. In più quest'anno avremo una mostra del fotografo Paganese Gaetano Falcone, il quale porterà nei nostri saloni degli scatti importanti inerenti alla festa della Madonna.